La decisione palla ancora molto buona per Simone, Simone può tentare di girarsi e provare, la vola è in effetti l'ha fatto, ancora Simone. Splendido pallonetto, ancora una volta un palo e poi la conclusione di Simone. Svarione clamoroso di Bubnovic, Simone, ancora Simone entra in area, potrebbe andare al tiro, il tiro c'è. Non è potuto dare la palla di Cagno come è successo domenica a UEA, però ha fatto bene a mio... ...e un gol a livello europeo è sempre importante, gli può dare fiducia, coraggio anche per affrontare le prossime... ...dalla palla di Cagno che era completamente solo sulla destra. Stupendo il dribbling di Simone, l'abbiamo rivisto adesso, ai danni del difensore...